Ciao a tutti dall'altro, grandissima sorpresa, eccoci qui, reduci possiamo dire dal microfono d'oro mi trovo con... Alessia Macciocca Macciocca che è famosissima O Alessia Macci su YouTube Ecco che noi andiamo a trovare tutti quanti e ricordiamo Alessia Macci su YouTube Quante visualizzazioni? Oddio, forse 2 milioni su YouTube Ecco E follower su Instagram, 600 mila E' straordinaria questa cosa Allora io ti chiedo di salutarli tutti quanti, i tuoi fan Ok, vi mando un bacione Ecco qua, una a una ovviamente Sì, ovvio Ecco qua 100 mila baci 100 mila baci, io ti ringrazio E seguitela, ovviamente non c'è bisogno, ve lo dico io Anzi se me ne mandi qualcuno dal salutatore è ben accetto Ecco, vi salutiamo tutti quanti direttamente da microfono d'oro Ciao Ciao